Il percorso parte dalla piazza Diego Fidelis, in cima ai coli di San Ferro. Siamo già quasi arrivati. Ecco la panchina. Ed eccola, è bella, questa lì sopra è anche la sua. Bel panorama. Adesso ce ne dovrebbe essere un'altra in giro. Allora signorina Fabi, cosa ne pensa della panchina gigante di Grone? È bella, è bella, tra l'altro è una panchina per saltire il cuore passato. E' vero, invece è bel fresco oggi che fa caldo. E' vero, è bella, è bella, è bella, è bella. E' bella, è bella. Ed eccoci in arrivo la seconda panchina gigante dedicata a tutte le vittime del covid. Hanno anche cambiato la croce rispetto a quando eravamo venuti noi. Sì, è bella. E' bella. E' bella. E' bella. Sì. Bella. Eccoci qua. Bravo, Fabi. Bravo, Fabi. Io c'ero, io credo. E allora signorina Fabi, le sono piaciute le due panchine? Sì, mi sono piaciute. Semplice, come per conto, perché sono veramente 10 minuti dal parcheggio. Sì, un quarto d'ora. Semplice. 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 E poi è bello, perché è più di significato anche, cioè nel senso dedicata. Semplice. 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 Semplice.